Sicuramente è una soddisfazione, ma una soddisfazione la quale avrei fatto volentieri a meno perché quest'oggi per me come calciatore, per noi come gruppo e come nazione è un giorno molto triste perché alla fine è un giorno di fallimento a livello calcistico e per cui è un qualcosa che ci rattrista molto e che ci deve far pensare tutti e ci deve far fare un bel esame di coscienza.